Peppino, Peppino svegliati, sbarcaro l'americani, sbarcaro l'americani, alza ti viene a vedere. Ma è vero? Sì! Ma che succede? Forse è vero. Avanti! Te l'hai chi bello picciotto? Stanotte c'aveva la febbre alta. Secondo me adesso sta meglio. Ci puoi parlare tu per favore perché io non capisco quello che dice. Io? Perché io che parlo americano, io latino ci posso parlare. Questa fasciatura? Ce l'ho fatta io. E questo so fare. Falla vedere. Senti, questa deve... No. Tranquillo. Tranquillo. Questa deve sparire. Sì. E quella anche. Tranquillo. Io, Giuseppe. 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 Li senti? Oggi fanno tutti festa. Festa, Giuseppe. Non mi capisco, vero? Come sta questa brutta ferita? C'è la febbre. Oh, non lo posso fare. Come volevi dire? Ma non volete mettere nei guai? Ma fate una carità a Cristiana, dottori curate. Lavorandolo che cosa? Ma è un nostro cugino della città? Ma bambini, restate fermi per favore. Vincere, Vincere. Vincere, Vincere. Ma perché no? Ma che cosa mi volete mettere? Vincere? Secondo voi questo è il vostro cugino? Questo è il marecano, si vede? Ma no, è un cristiano come hanno auci. E voi per una volta avete aiutato. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Ma perché? E voi dovete curarla, eh? Non posso. Facelo almeno per la nostra famiglia. Non lo posso fare. Se lo potremmo fare, lo facevo. Ma perché no? Ehi, passate. Questa è roba mia. Posate. Tutte queste sorde non ne vengono. Non ne vengono tutte queste sorde. Dammi, non toccate. Posate, dammi. Sei tu che hai rubato queste sorde all'ospedale. No, ma sei mia sardissima Luisa. Minazza lì. Giuseppe il salmario. Bis pronto! Bis겠어! TASSA! IM S nein! killasci! Nullì! Si sono andate! Ti viene bene! He's going home. It's Vaere per andare. Grazie